POM 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 Wonder Woman, il film che ci ha fatto di... Mmm, ma io questa giorno fissa da qualche parte, eh? Si parte da Parigi, in cui Gal sta a lavorare su dei reperti storici finché non arriva un corriere a portare una valeggetta firmata Wayne Enterprise. Dentro c'è una foto ai tempi da guerra. Si è tenuta bene, eh? Allegata da un bigliettino. Ho trovato l'originale. Magari un giorno mi racconterai la tua storia. C'è sta a provare, eh? E da sta foto partono i viaggi mentali dei Gal Gadot che la riporteranno all'età della sua giovinezza. Trascorsa allegramente in Greenscreenland. Un mondo pieno di donne. Solo donne. Cazzute. E ste donne, siccome non sanno come sfogare la loro tensione sessuale dovuta al vivere in un paese senza uomini, si allenano. Un botto. Forse troppo. Insomma, la piccola dai... Oddio, scappa un pangolino, scappa! Io mica sono un pangolino, io sono l'armadillo. Oddio, scusami. Però sta voce già l'ho sentito. Vabbè, comunque, la piccola Diana, dicevo, pure se c'ha 4 anni, pure se in teoria non c'è stato nemici da combatte, pure se la madre vuole preservare a tutti i costi la sua femminilità allontanandola dalle battaglie, non so quale battaglie, vabbè, desidera comunque essere addestrata come tutte le altre Amazzoni. E dopo anni di allenamenti galeotti, la madre la scopre. E si decida a farla diventare l'Amazzone più forte della storia dell'Amazzoni. Persino più forte dei Kart Rassel. E non mi dite che questa non è Kart Rassel il travestito perché non me fregate. Ma durante questo allenamento scoprete vere poteri che la rendono diversa dalle altre. Certo, le altre c'hanno il bullet time, eh, ma lei non solo è capace di rallentare il tempo, ma sa purosa la forza. E sta cosa non viene vista tanto di buon occhio dalle altre, eh. Sta a farla fine della classica fricchiettona. Quindi, ferita dall'espressione di schifo delle compagne, scappa via e vede un aereo precipita nel loro mondo fatato. Sicché decide ad andare a vedere che era quel coso volante e quando vede che no mo che apirai, inizia a guardarla come se fosse un ghiacciolo nel deserto del Sahara. Però, insieme al pilota, riescono ad entrare in Green Screen Land anche i soliti nazisti maledetti, che ignari di essere entrati nel sette dei trecento al femminile vengono trebbiati a colpi di frecce e schiaffi in bocca. Anche se, purtroppo, qualche amazzo ne more sparata. Pure Carl Trussle muore per proteggere Diana. E se posso dire, sinceramente non mi piacerebbe morire con Gal Gadot vicino, eh. Che ti urla così? No, 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 no. Boh, pare che mi sta prendendo per culo, non mi piace. Insomma, il soldadino Belloccio viene legato con la frusta a LED che fa di solo la verità e appunto rivela di essere una spia americana infiltrata nell'esercito tedesco per scoprire l'arma segreta che stavano a progettare. Ma siccome è stato scoperto, si è dato con l'aereo. Ma l'hanno seguito ed è finito là da loro. Stanno facendo armi che ammazzano donne, uomini, bambini, cani, armadilli, zebbre, elefanti, nomi, cose, città, tutto. Io voglio cercare di fermarli. Perché io voglio la pace nel mondo. Perché noi americani siamo i cazzo di buoni. Tacci tu a Steve. Commosso dal discorso del Capitan Steve Roger... Steve Trevor e dal suo pene, si convince a diventare la salvatrice della Terra e far finire queste guerre. Ma prima di far questo, ha bisogno di un outfit adeguato. Quindi diventa Spider-Man. Per un attimo... Via lo scudo, la frusta, il cappello, la sparina, ammazzadei e perché no, pure l'armatura figlia. E parte insieme al ragazzetto. Allora Steve, portami da questo dio della guerra che oggi ho proprio voglia di fa' botte, guarda. Sì, dio della guerra. Questa è buona quanto matta, eh. Ma chi ti devo portare? Da Adolfo? In realtà, il dio della guerra in questa parte del film sono il romantico duo formato da Scarface e Mister so proprio il cattivo del film, eh. Che stanno progettando due cose. Il primo è lo spruzzetto che fa' diventare forti e il secondo è il gas super mortale che spacca pure i vetri. E seppure la guerra sta per finire con gli inglesi che stanno contrattando un armistizio con la Germania ormai quasi sconfitta, loro due vogliono continuare a romper cazzo al mondo. E continuano questa inutile crociata. Ammassano tutti i capi politici incaricati di far cessare la guerra. Intanto Steve e Diana arrivano alla coloratissima Londra, decisi a portare le prove dell'esistenza di un'arma mortale tedesca ai capi inglesi, tra cui Lupin, incredibile, persuadendole a cercare di impedire un'ipotetica voltafaccia dei tedeschi per evitare un bombardamento a tappeto con il gas maledetto. Ma sti cazzi, stiamo a trattare la pace, la guerra finirà e tutto andrà bene. Ma chi è il capo della difesa inglese? Gasparetto il Fornaio? Che cazzo di ragionamento è? Vabbè. Dopo aver richiesto appunto il supporto per andare a risolvere questa situazione ed esserci lo stato negato, Steve se fa un team per cazzi suoi. Anche perché aveva promesso a Gal di portarla in guerra, quindi come ci insegna Schwarzenegger, una promessa è una promessa, no? Lo prometto. Quindi prende un francese, uno scozzese, Liga Bue, la benedizione di Lupin e parte per il fronte. Guarda che faccetta che c'è Lupin, guarda quanto è simpato, è buono. Dagli un po' di cioccolata, Remus, dai. Insomma, sto team rafforzato va in trincea. Gal, dopo aver fatto la brava cittadina per tutto sto tempo, vede un po' di guerra, gli ribolla il sangue. Se toglie la mantellina, se mette il vestitino sexy da battaglia e corre verso i deteschi, con un botto dei rallent non necessari. Infatti, ci mette tipo un quarto d'ora per far dieci metri, madonna santa. E appunto, dopo questa estenuante camminata nella No Man's Land, a pugni, calci, frustate, moziche e spallate de Cristo, riesce ad ammazzare tutti i deteschi e liberare la città. Oh, finalmente! Famosa è una foto di Lord, perché questo momento non ricapiterà mai più nella storia, eh? E quindi, dopo aver riportato la pace nella città, se fanno una birretta, due balletti, Spad ce suona e ce canta qualche canzone scozzese, e Steve finalmente riesce a bombarsi Gal Gadot. Grande Steve, siamo tutti con te. Dopo aver vinto la battaglia e dopo la notte focosa, si preparano ad andare al Gala dei Nazi. Gallo con l'intenzione di ammazzare Mister Soh cattivo fracico e Steve con l'intenzione di trovare il gas mortale e distruggerlo. Intanto, però, Mister Soh veramente cattivo lancia una bombetta delle sue sulla cittadina che avevano appena conquistato, ammazzando tutti i poveri cittadini. Allora Diana è incalzata come una scimmia che alloppa verso il generale e tra un po' non so più il cattivo perché moro, ma prima di morire se sniffa un po' di spruzzetto sgravo e riesce a combattere quasi alla pari contro la nostra gallona. Ma che grazie al potere del bene riesce comunque ad ammazzarlo. Oh, tutto finito, Ares morto, mo' potevo tornare a casa. Ares. E' per questo che mancava le lezioni. Da quanto lo sai? Beh, da adesso direi. Ma che brava. Diana. Sei l'amazzone. Più brillante della tua età che abbia mai visto. Insomma, Diana scopre di essere lei stessa la God's Killer e non la sua spadina. Lupin cerca di convincere e di eliminare tutti gli uomini in modo tale da far tornare tutto bello in fiore come una volta, come quando c'era... No, stiamo già a quei tempi e non mi pare che le cose siano migliori, vabbè. Insomma, se combatte. Tra l'altro Lupin che vuole veramente un bello spettacolo, eh? Diventa un po' Superman, un po' Magneto, un po' Psycho Mantis e fionda via Diana. Steve che se trovava là nei baraggi approfitta della lontaranza di Lupin per salutare la sua amata perché deve andare a fare kamikaze con l'aereo pieno di cariche esplosive. Ammazza tutto. Ma il combattimento continua. Lupin diventa talmente forte da tramutarsi in Sauron. Diana è intrappolata da un cingolo e aspetta solo di essere spappolata ma nel cielo vede brillare la por anima di Steve. Quindi sblocca il Kaioken. Ma che cazzo sta succedendo? Grazie un'altra volta alla forza dell'amore come la più forte delle superchicche gli fa un Wakanda per sempre che sbolecola il povero Remus. E finalmente Ares è morto e torna la pace tra gli uomini. Insomma, ma poi comunque sia una cosa a me è rimasta. Ma Steve non poteva evitare di farse esplode con tutte quei cazzo di bombe? Cioè, mo' ha inquinato tutta l'atmosfera. Ma vabbè, questo è un film di sì. Dei film di sì ci interessa solo il presente non il futuro, ok? E soprattutto te ne devi andare da eroe te ne devi andare perché sennò diventi troppo a lungo cattivo diventi troppo a lungo Aspettate un attimo che mi concentro. Muori da eroe o vivi troppo a lungo da diventare il cattivo. A posto, ce l'ho fatta. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.